Ti senti un po' come una formichina dispersa in un oceano di roccia? E comunque abbiamo già fatto tanto eh oggi? Ah va abbiamo fatto un cazzo! Cioè io non ho tempo infinito per tornare qua eh! Se vogliamo chiudere la via... Cinque giorni ci vogliono, te l'assicuro! Nella storia la parete sud della Marmolada è stata scalata in lungo e in largo Ma resta ancora questo spazio di parete vergine. Era stato tentato nel 1995. Il tentativo era fallito perché le difficoltà erano alte. Opsaaaaaah! Adesso praticamente arrivano dove non ci sono buchi. Sono dritto di là, dove vai? Ehi c'è un buco qua sopra! Vai su un terreno ignoto dove non è mai stato nessuno prima di te. Arriva! Niente buchi! Si è rotta la presa! Ma è impossibile è liscio! La nostra cordata è una cordata di quattro generazioni diverse. Grande sorella! Ho capito il buco che dici te! Ma non ci arrivo neanch'io! Due è il terzo giorno sostruttivo. Fratelli e sorelle, buongiorno! Nella storia dell'alpinismo arrivare in cima è un punto d'arrivo che non puoi evitare. Superati sti tre metri si vedono dei grossi buchi là. Prendi il buco a destra e rovescio. E il destro sul verticale. Devo lanciare! Sul marcio come i vecchi scalatori. Io non ho mai accettato di andare a scalare sapendo che posso morire. La marmolata è la marmolata. Io sono un granello di polvere rispetto a una parete del genere. La marmolata è la marmolata! Max, 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 come and get this?